Un anticiclone presente sull'Europa occidentale ed una depressione sulla Russia fanno convergere verso il Mediterraneo correnti settentrionali. Sabato, l'arrivo contemporaneo di aree più umide dal sud ovest e più fredda dal nord est, provocherà un forte aumento dell'umidità sul nord Italia. Per sabato dunque prevediamo cielo prevalentemente coperto su pianura e costa, nuvoloso in montagna con qualche schiarita in quota. Sarà possibile, non è da escludere, qualche breve precipitazione, in genere molto debole, più probabile eventualmente sulla fascia occidentale e sulle prialpi carniche, dove eventualmente potrebbe esserci un po' di nevischio al di sopra degli 800 metri circa. Su bassa pianura e costa soffrerà buona in genere moderata, le temperature massime non dovrebbero superare i 10-11 gradi su pianura e costa. Per domenica un miglioramento del tempo, con cielo in genere poco nuvoloso in montagna, variabile ancora per nubi basse su pianura e costa. Soffrerà ancora un po' di bora, debole e moderata al mattino, in calo poi nel corso della giornata, le temperature risaliranno le massime di un paio di gradi. Per lunedì e per martedì probabilmente ancora a tempo stabile, con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Dall'osservatore meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanotto.